E ora la rubrica salute con Luciano Honder. Curare i denti dei bambini fil dalla nascita. Quali sono i momenti più importanti, le scelte da fare, per esempio per prevenire le male occlusioni, una cattiva chiusura della bocca? La dottoressa Maria Verona Rinati, medico chirurgo dontoiatra a Roma. Una volta si usavano pasticche di floro in gravidanza. Ancora questa abitudine? Questa è un'abitudine, una pratica ormai abbandonata da diversi anni, perché si è visto che non soltanto era inutile, ma addirittura poteva essere controproducente e portare dei danni importanti. Di fronte ai primi denti, quando la prima visita? Quando andare dall'odontoiatra? Allora è importante andare dal dentista verso già i 3-4 anni, quando ormai tutti i denti da latte, quindi i denti decidui, sono in bocca. Vanno sempre curati i denti del bambino, anche piccolo? È importante curarli, assolutamente sì, per due motivi fondamentalmente. Uno perché possono sviluppare la carie, quindi portare dolore al bambino, e poi perché una perdita precoce di un dente da latte può portare appunto alle male occlusioni di cui accennavamo prima. Ecco, le male occlusioni, moltissimi bambini hanno gli apparecchietti in bocca. Quando scoprire un piccolo difetto e correggerlo? Anche qui è importantissimo la diagnosi precoce, quindi portare il bambino precocemente dal dentista, già dai 3-4-5 anni, e capire subito se c'è un problema di questo tipo. Grazie. Grazie.